gustar viaggiando vi ha portato a trento siamo qua perché vogliamo parlare di grappe infatti andremo a visitare due distillerie molto importanti della zona e poi vi porteremo anche in una valle in una valle che è rimasta nascosta per molto tempo finché non è stata creata una galleria quindi una valle che ha sviluppato un proprio modo di parlare e ci vedrete cose veramente interessanti andremo infatti nella valle dei mochini la grappa oggi è ricca di profumi più morbida sua dente e ottenuta con alambicchi di ultima generazione a tutela della sua produzione nel 1960 è nato l'istituto tutela della grappa del trentino grazie a cinque distillatori bertagnoli pisoni sebastiani segnana e bassetti che avevano compreso l'importanza delle regole di autodisciplina e dei controlli di qualità sulla grappa oggi l'istituto conta 27 soci dei quali 24 sono distillatori e rappresentano la quasi totalità della produzione trentina mentre nel resto d'italia i distillatori sono meno numerosi ma offrono sempre grappe di grande qualità fare grappa nel 2018 cosa vuol dire beh diciamo ricontinuare a fare la grappa per noi perché dal 1870 che siamo iscritti alla camera di commercio e che da allora siamo sempre stati in attività anche durante la guerra in quanto qui c'erano i tedeschi e ci avevamo preso la nostra azienda agricola proprio come deposito delle motorizzazioni proprio e perciò siamo stati costretti a fare la grappa per loro quegli anni che sono rimasti qui in trentino fare la grappa dicevamo oggi e venderla perché poi il prodotto va venduto quali sono le difficoltà e invece se ci sono dei momenti di forza diciamo le difficoltà chiaramente è il tasso alcolico che chiaramente oggi logicamente siamo visti in una certa maniera però chiaramente c'è stato un cambio proprio di produzione proprio di tecnologia e quindi di affinamento di un prodotto molto più facile molto più vicino al bevitore nel senso che noi diciamo non più di bere ma di sorseggiare e quindi di di berlo assieme agli amici in un momento un po' così in simpatia in tranquillità chiaramente il futuro cioè noi lo vediamo nell'esportazione in modo particolare anche creando sempre più nuovi adepti nel senso che anche grazie per fortuna all'europeo che sta girando il mondo che porta anche questa tradizione unica che in italia anche all'estero il segreto di una buona grappa ma il segreto di una buona grappa noi diciamo la materia prima nella cantina che chiaramente se fa la base buona la buccia dell'uva c'è la porta proprio fresca appena svinata noi avremo un'ottima grappa sua preferita della vostra produzione ma a me una delle preferite è la grappa di moscato ma quello è un prodotto un po' più difficile perché non a tutti piace se no un terroldego che sia distillato fresco bianco oppure anche invecchiato quindi territorio a 100% si terroir senz'altro noi poi siamo nel sulle separazioni del territorio infatti prendiamo i nostri conferitori sono nell'arco massimo di 15 chilometri alla nostra distilleria per ora termina qui il nostro incontro con una delle longeve grappe trentine nel prossimo appuntamento invece vi porteremo nel regno della grappa segnana per svelarvi come si degusta questo distillato grazie a tutti